Non è facile per un ragazzo orientarsi. Può essere difficile scegliere la scuola media superiore, può esserlo ancora di più per l'indiritto universitario. Da questi dubbi nasce l'idea della Dolomiti Summer School, promossa da Confindustria Belluno Dolomiti. La formazione, la preparazione, l'ascelto universitario è un tassello fondamentale della propria vita. Può voler dire passare i prossimi 30, 40, 50 anni con leggerezza. Se si sbaglia purtroppo la si paga anche tutta la vita. Per cui noi crediamo nei giovani e cerchiamo di aiutare i giovani e le loro famiglie in modo che possono fare delle scelte corrette, equilibrate e anche di passione e di ambizione. Ai ragazzi che hanno partecipato è stata offerta la possibilità di confrontarsi sui temi più disparati, dalla linguistica alle scienze infermieristiche, dal marketing alla biochimica, dalle scienze informatiche alla dontoiatria. Sicuramente un'iniziativa importante e coerente con tutte le iniziative che stiamo facendo a favore dei giovani, delle competenze e della formazione. Per dare ai giovani quale diversa opportunità? In questo caso specifico diamo ai giovani la consapevolezza di poter scegliere il percorso universitario che è più affine alla propria sensibilità e alle proprie aspettative, cercando di ridurre o azzerare il rischio di sbagliare il percorso universitario che significherebbe perdere soldi e anche tempo.